oggi è l'ultimo giorno senza la nostra Lilia, abbiamo fatto l'ultimo pranzetto insieme perché, non so se sto registrando questo video così, ma perché già me manca adesso non c'è stagia più, dopo aver visto che c'era la cacca in testa così l'ha pulita ho salutato la sua compagniera De Piso, la mia compagniera e l'ho accompagnata effettivamente al taxi e ho compreso che non l'avero per tantissimo tempo e già me manca perché veramente è stata con me in un periodo che io non volevo abbandonare tutto volevo abbandonare proprio questo mondo e lei mi è stata tanto, 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 tanto vicino quindi spero che possa venire prossimamente qui ho proprio capito che è veramente una persona importante quando ha chiuso questo sportello non ce l'ho fatta, me sono messo a piangere siamo soli, io e voi